Io sono sempre pronta ad accogliere le conversioni così umane di una persona che fino all'ultima puntata ne ha dette di ogni contro Elena e improvvisamente da un giorno all'altro era lì invece ad abbracciarla così, ma uno switch incredibile. Allora l'unica spiegazione che io riesco a dare è che tu vuoi accarezzare Elena per graffiare Andrea perché è vero state cominciando a giocare già da un po' di tempo ma tu sai bene che il nemico più acerrimo di Elena è proprio Andrea e quindi tu cercando di salvare Elena perché tu sai che tanto consenso da parte del pubblico stai cercando in qualche modo di colpire in realtà Papa Locicero come lo hai chiamato tu, Marto. Scusami, mi sbagli perché ripeto, voi vedete dei pezzettini, se venisse analizzato tutto il periodo in cui sono successe queste cose io e Andrea abbiamo discusso mezzo minuto, io e Andrea siamo molto legati, non c'è mai stato uno scazzo tra me e lui dal giorno 1, proprio piccolissime discussioni.